Vicepresidente Brianza, il mese dedicato alla prevenzione del cancro si arricchisce di questa mostra qui a Palazzo Pirelli, cuore di donna. Sì, ottobre è già il mese in rosa, il mese in cui si parla di prevenzione, si cerca di far capire alle donne quanto è importante fare prevenzione per tutelarsi, per proteggersi, e per combattere meglio tutti insieme questo male, per sconfiggerlo e poi per avere una vita ancora piena a 360 gradi. E allora anche il Consiglio regionale si finge di rosa con questa bella iniziativa, una mostra fotografica, 17 donne che hanno avuto il cancro, che nelle loro difficoltà l'hanno scoperto e dietro ognuna di loro c'è una storia, una storia dolorosa, una storia difficile e poi una storia di rinascita fatta di sorrisi, di voglia di andare avanti, di scoperte, di crescita e poi di impegno per gli altri, perché poi tutto si trasporta in questa associazione che sta vicino ai malati oncologici, ai pazienti, alle loro famiglie, ma anche alle istituzioni, perché il lavoro in sinergia è estremamente importante. La Regione Lombardia per la lotta al cancro sta facendo, ha fatto e continuerà a fare moltissimo. Abbiamo delle eccellenze, abbiamo le breast unit, abbiamo tanti aspetti positivi, ma la strada è sicuramente lunga. La cosa che mi piace di pensare è che poi ci siano tante splendide associazioni e il lavoro di tanti volontari imprescindibile. E come è un supporto psicologico e a volte serve anche quello economico, visto che anche da recenti statistiche questo tipo di problematica comporta anche delle spese non indifferenti per le famiglie? Beh, sicuramente scoprire di avere questa malattia e tutto quello che ne consegue ha un impatto, ha un impatto su tutta quella che è la vita di una persona, la famiglia, le esigenze lavorative, l'assistenza psicologica. Non si tratta solo di cure fine a se stesse, di affrontare la malattia da un punto di vista sanitario, seppur imprescindibile e doveroso, ma di affrontarla davvero sotto tutti i punti di vista, perché no? Pensiamo anche a quello estetico, sociale, pensiamo per esempio al contributo parrucche, pensiamo alla fertilità, la necessità di doversi sottoporre a cure chemioterapiche che possono compromettere la fertilità per una donna e quindi la possibilità invece di crioconservare gli ovuli. Davvero fare questa scoperta è drammatico e impatta in tutti gli aspetti di una vita, però ci sono tanti strumenti per combattere questo male, per vincere, per superarlo e per tornare ad avere una vita assolutamente piena.